e qui la potenza è valida c'è mai una raga e tattica come prevedibile adesso sarà ferri davanti con sarà passato all'esterno poi mai una raga e attenzione siamo già al suono della campana con ferri davanti mai una raga all'esterno passero all'interno e invece riesce a rimanere davanti mai una raga ha provato se a passo ad infilarsi riesce a distendersi ad allungarsi mai una raga che ha un 4 metri di vantaggio o qualcosa in più dopo questa curva e siamo alla Taguardo Maina 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 raga ancora lei due vittorie per la campionessa italiana